La Toscana insieme a Puglia e Sicilia è la meta turistica più ambita dagli italiani per un'estate caratterizzata da vacanze brevi all'insegna di mare, enogastronomia, benessere e itinerari green. È quanto emerge dall'indagine di Conf Turismo Conf Commercio sull'indice di fiducia dei viaggiatori italiani, dei quali ben il 16% in più dello scorso anno farà le ferie nel bel paese. Città e luoghi d'arte però solitamente in vetta alle preferenze quest'anno fanno registrare un deciso calo già certificato dai numeri drammatici del comparto alberghiero. Nella nostra regione i capoluoghi più colpiti dalla crisi turistica post-covid sono Firenze, Pisa e Siena. La speranza degli operatori del settore è che i tanti ancora indecisi, circa un italiano su cinque, possano risollevare almeno in parte un bilancio nerissimo. La costa invece sta registrando numerose presenze, soprattutto nei fine settimana. La ripartenza per il mare toscano sta procedendo positivamente.